Piper. Piper non riusciva ad addormentarsi. Edge aveva deciso di trascorrere la prima ora del coprifuoco, espletando i suoi doveri di guardia notturna, ovvero sbraitando avanti e indietro per il corridoio. Spegnere le luci, tutti a letto! Se provate a sgattaiolare fuori, vi rispedisco a Long Island a suon di mazzate! Picchiava la mazza da baseball contro la porta della cabina ogni volta che sentiva un rumore, urlando tutti di dormire, cosa che rendeva impossibile il sonno a chiunque. Piper immaginò che il satiro non si divertisse così dall'epoca in cui si fingeva un professore di ginnastica alla scuola della natura. La cabina era molto accogliente. Leo aveva programmato gli alloggi in modo che si regolassero automaticamente sulla temperatura preferita da chi li occupava, perciò non faceva mai né troppo freddo né troppo caldo. Il materasso e i guanciali erano imbottiti di piume di Pegaso. Nessun Pegaso aveva subito maltrattamenti durante la fabbricazione, aveva garantito Leo, perciò erano super comodi. Una lanterna di bronzo pendeva dal soffitto, brillando a qualsiasi grado di luminosità Piper desiderasse. I lati della lanterna erano trafitti da minuscoli forellini, in modo che miriadi di scintillanti costellazioni fluttuassero sulle pareti. Piper stava fissando le travi di bronzo del soffitto. Aveva talmente tanti pensieri per la testa, che temeva di non addormentarsi mai. Ma c'era qualcosa di rasserenante nel dondolio della nave e nel ronzio monotono dei remi aerei che solcavano il cielo. Alla fine sentì le palpebre pesanti e si addormentò. Sembravano passati solo pochi secondi quando si risvegliò al suono della campana che annunciava la colazione. «Ehi, Piper!» Leo bussava alla porta. «Stiamo atterrando!» «Atterrando?» La figlia di Afrodite drizzò la schiena, ancora un po' assonnata. Leo aprì la porta e fece capolino, tenendosi una mano sugli occhi. Un bel gesto, se non avesse sbirciato tra le dita. «Sei aquile c'è, Rocky!» «Sì, certo! Comunque, stiamo per atterrare a pochi chilometri da Topica, come richiesto!» Leo lanciò un'occhiata fuori, in corridoio, e poi si sporse di nuovo dentro. «Mi dispiace per il bombardamento di ieri. Grazie per avermi difeso!» Piper si stropicciò gli occhi. «Il banchetto a Nuova Roma era stato solo il giorno prima!» «Non preoccupare! Non avevi il controllo di te stesso!» «Sì, però non eri obbligata a prendere le mie difese!» «Stai scherzando? Tu sei come il fratellino irritante che non ho mai avuto! Certo che prenderò sempre le tue difese!» «Oh, grazie!» Dal ponte, Edge strillò. «Ehi là, ciurma! Cansa sabbibordo!» «Santo e festo!» Brontolò Leo. «Deve dare una bella ripassata al suo gergo marinaresco! Meglio che vada di sopra!» Piper si lavò e si vestì. Mentre afferrava un bagel alla mensa, udì scattare gli ingranaggi che consentivano l'atterraggio. Salì sul ponte e raggiunse gli altri, nell'istante in cui il largo due si posava al centro di un campo di girasoli. I remi si ritrassero, la passerella si abbassò. Il mattino profumava di erba bagnata, piante tiepide e terra fertilizzata. Non era un cattivo odore. Ne ricordava la casa di nono Tom a Telequa, nella riserva in Oklahoma. Percy fu il primo ad accorgersi di lei. La salutò con un sorriso, cosa che per qualche motivo la sorprese. Indossava un paio di jeans scoloriti e una maglietta arancione del campo mezzo sangue, come se non si fosse mai allontanato dai greci. Il cambio d'abito doveva aver contribuito a migliorare il suo umore, oltre naturalmente al fatto che si affacciava al parapetto circondando le spalle di Annabeth con un brazzo. Piper era felice di scorgere finalmente una scintilla negli occhi di Annabeth, perché non aveva mai avuto un'amica migliore. L'aveva vista tormentarsi per mesi, consumando ogni singolo istante di veglia, alla ricerca di Percy. Ora, nonostante la missione pericolosa che stavano affrontando, almeno aveva riavuto il suo ragazzo. Allora, Annabeth le sfilò il bagel di mano e addentò un boccone. A Piper non dispiacque. Quello di rubarsi a vicenda la colazione dal piatto era uno scherzo che si facevano di continuo giù al campo. «Eccoci qua! Qual è il piano?» «Voglio fare un salto sull'autostrada», disse Piper, «e trovare un cartello con su scritto «Topica 50».» Leo disegnò un cerchio con il telecomando della Wii e le vele si abbassarono. «Non dovremmo essere lontani. Io e Festus abbiamo fatto del nostro meglio per calcolare l'atterraggio. Cosa ti aspetti di trovare?» Piper spiegò quello che aveva visto nel pugnale, l'uomo con il calice vestito di viola. Tenne per sé le altre immagini, però. In particolare, la visione di lei, Percy e Jason, che affogavano. Tanto non ne comprendeva il significato e tutti sembravano così sollevati quella mattina. non voleva rovinare l'atmosfera. «Maglietta viola?» riflette Jason. «Tralci di vite sul cappello? Sembrerebbe Bacco». «Dioniso!» mormorò Percy. «Se ci siamo fatti tutta questa strada solo per vedere il signor Dee, Bacco non è tanto male», osservò Jason. «Non mi piace molto il suo seguito, ma...» «Fai per rabbrividi!» Lei, Jason e Leo avevano avuto un incontro con le mena di pochi mesi prima, ed erano stati quasi fatti a pezzi. «Ma lui è a posto», continuò Jason. «Una volta gli ho fatto un favore nel paese del vino». Percy era sbigottito. «Se lo dici tu, forse il suo lato romano è migliore. Ma perché se ne andrebbe in giro per il Kansas? Zeus non ha ordinato agli dei di cessare ogni contatto con i mortali?» Frank sbuffò. Indossava una tuta da ginnastica blu, come se fosse pronto per una corsetta tra i girasoli. «Gli dei non sono stati molto bravi a eseguire l'ordine. E poi, se sono diventati tutti schizofrenici, come ha detto Hazel...» «E come ha detto Leo», precisò il figlio di Efesto. Frank lo guardò con la faccia scura. «Chi può dire cosa gli stia passando per la testa? Può darsi che là fuori ci sia della gran brutta roba ad aspettarci». «Sembra pericoloso», concordò Leo sorridendo. «Beh, divertitevi ragazzi. Io devo finire le riparazioni dello scafo. Il coach si occuperà delle balestre danneggiate. E poi...» «Annabeth, mi farebbe davvero comodo il tuo aiuto. Sei l'unica altra persona qui a capire un minimo di ingegneria». Annabeth guardò Percy mortificata. «Ha ragione. Devo restare ad aiutarlo». «Tornerò da te», replicò lui, dandole un bacio su una guancia. «Promesso». Quei due stavano così bene insieme che Piper ebbe una stretta al cuore. Jason era fantastico, naturalmente. A volte era così distante. Come la sera prima, quando non aveva voluto parlare di quella vecchia leggenda romana, sembrava ripensare spesso alla sua vecchia vita al campo Giove. Piper si chiese se sarebbe mai stata in grado di superare quel muro. Visitare il campo Giove e vedere Reina in persona non l'avevano aiutata di certo. Come non le era d'aiuto, il fatto che Jason quella mattina avesse scelto di indossare una maglietta viola, il colore dei romani. Frank si sfilò l'arco dalla spalla e lo appoggiò al parapetto. «Mi trasformerò in corvo o qualcosa del genere. Così posso sorvolare la zona e tenere gli occhi aperti, nel caso si presenti qualche aquila romana». «Perché un corvo?» domandò Leo. «Cioè, se puoi trasformarti in un drago, perché non lo fai ogni volta? Il drago è il più forte di tutti». «La faccia di Frank sembra impregnarsi di succo di mirtilli». «È come fare i pesi in palestra. Non è che ogni volta ti metti a sollevare il peso massimo. È faticoso e rischi di farti male. Trasformarsi in drago non è facile». Leo annuì. «Non l'avrei mai detto. Io non faccio pesi». «Bheh, magari dovresti farci un pensierino, super fi...» Hazel si mise in mezzo ai due. «Ti aiuto io, Frank», disse lanciando un'occhiattaccia a Leo. «Posso chiamare Arione per lustrare la zona via terra». «Va bene», replicò Frank, continuando a guardare male Leo. «Sì, grazie». Piper si chiese cosa stesse succedendo tra quei tre. I ragazzi che si mettevano in mostra di fronte a Hazel e si provocavano a vicenda, quello lo capiva. Ma sembrava quasi che Hazel e Leo condividessero un passato. Eppure si erano incontrati per la prima volta solo il giorno prima. Si chiese se durante la spedizione al Great Salt Lake non fosse successo qualcos'altro, qualcosa di cui non avevano parlato. Hazel si rivolse a Percy. «Fate attenzione là fuori. Ci sono un sacco di campi, un sacco di coltivazioni. Potrebbero esserci chissà quanti carpoi in giro». «Carpoi?» chiese Piper. «Spiriti del grano», chiari Hazel. «Fidati, meglio non incontrarli». Piper non capiva come uno spirito del grano potesse essere tanto pericoloso, ma il tono dell'altra la convinse a non indagare. «Quindi restiamo in tre», concluse Percy. «Io, Jason e Piper». «Non muoio dalla voglia di rivedere il signor D. Sai che rottura. Ma, Jason, se tu ci vai più d'accordo...» «Sì», confermò il figlio di Giove. «Se lo troviamo ci parlerò io». «Piper, la visione è la tua. Comanda tu la spedizione». Piper rabbrividì. Aveva visto proprio loro tre annegare in quel pozzo nero. Era una cosa destinata ad accadere in Kansas. Aveva la sensazione di no, ma non poteva esserne certa. «D'accordo», si sforzò di sembrare allegra. «Cerchiamo l'autostrada». Leo aveva detto che erano vicini, ma doveva rivedere molto il suo concetto di «vicino». Solo dopo una scarpinata nei campi roventi, tormentati dalle zanzare e schiaffeggiati dai girasoli, raggiunsero la strada. Un vecchio cartellone pubblicitario, Benny Benzina e Bulloni, indicava che distavano ancora 65 chilometri dalla prima uscita per Topica. «Correggetemi se sbaglio», disse Percy, «ma questo non vuol dire che dobbiamo camminare ancora per 15 chilometri?» Jason scrutò la strada deserta in entrambe le direzioni. Grazie alla cura a base di Nettare e Ambrosia, sembrava stare meglio, era tornato del colorito normale e la cicatrice sulla fronte era quasi scomparsa. Appeso alla cintura c'era il nuovo Gladius, che Hera gli aveva donato quell'inverno. Molti ragazzi sarebbero sembrati alquanto strani ad andarsene in giro con il fodero di una spada sopra i jeans, ma Jason lo portava con la massima naturalezza. «Niente macchine», disse, «ma immagino che tanto non avremmo fatto l'autostop». «No», concordò Piper, scrutando nervosa l'autostrada. «Però abbiamo già camminato troppo a piedi. La terra appartiene a Gea». «Mmm», Jason schioccò le dita. «Posso chiamare un amico per farci dare un passaggio?» Persi narcolò le sopracciglia. «Oh, davvero? Anch'io. Vediamo quale dei due arriva prima». Jason fischiò. Piper sapeva cosa stava facendo, ma sapeva pure che era riuscito a evocare tempesta solo tre volte dopo che quell'inverno avevano incontrato lo spirito della tempesta nella casa del lupo, e non capiva come avrebbe potuto funzionare con un cielo così azzurro. Persi chiuse semplicemente gli occhi e si concentrò. Piper non lo aveva ancora studiato bene da vicino. Al campo mezzosangue si faceva un gran parlare di lui. Persi Jackson di qua, Persi Jackson di là, e dopo tutto ciò che aveva sentito sul suo conto. Le sembrava, ecco, ordinario, soprattutto in confronto a Jason. Persi era più snello, un paio di centimetri più basso, con i capelli leggermente più lunghi e molto più scuri. Non era per niente il suo tipo. Se lo avesse visto in giro al centro commerciale, probabilmente lo avrebbe preso per uno skater. Carino, arruffato, del genere un po' selvaggio, decisamente un piantagrane. E avrebbe girato alla larga. Ma capiva perché ad Annabeth piacesse tanto e non faceva decisamente fatica a capire perché Persi avesse bisogno di lei. Se mai qualcuno poteva tenere un po' a freno un tipo come lui, quella era Annabeth. Un tuono attraversò il cielo sereno. Jason sorrise. Manca poco. Troppo tardi. Persi indicò verso est, dove una sagoma nera e alata stava calando su di loro, disegnando spirali nell'aria. Sulle prime, Piper pensò che fosse Frank in versione corvo, ma poi si rese conto che era troppo grande per essere un uccello. Un pegaso nero? Non ne avevo mai visto uno così. Lo stallone alato li raggiunse e atterrò. Trotterellò verso Persi e gli strofinò il muso contro il viso, poi voltò la testa con aria interrogativa verso gli altri due semidei. «Black Jack, ti presento Piper e Jason», disse Persi. «Sono amici. Il cavallo nitri piano». «Ehm, magari dopo», rispose Persi. Piper aveva sentito dire che sapeva parlare con i cavalli, essendo figlio di Poseidone, il loro signore, ma non lo aveva mai visto in azione. «Che cosa ti ha chiesto?», gli domandò. «San belle, come sempre», rispose Persi. «Può portarci tutti e tre, e se...». All'improvviso l'aria si fece gelida. Piper si sentì stappare le orecchie. A una cinquantina di metri di distanza, un ciclone in miniatura, ma pur sempre alto tre piani, scorreva sopra le cime dei girasoli come in una scena del mago di Oz. Si posò in strada accanto a Jason e assunse la forma di un cavallo, uno stallone fatto di vapore e percorso da lampi e fulmini. «Tempesta!», esclamò Jason con un grande sorriso. «Da quanto tempo, amico!». Lo spirito della tempesta si impennò e nitri. Blackjack arretrò innervosito. «Buono, bello», gli disse Persi. «Anche lui è un amico». Rivolse a Jason uno sguardo impressionato. «Niente male, Grace!». Jason si strinse nelle spalle. «Abbiamo fatto amicizia durante la battaglia alla casa del lupo. È uno spirito libero, letteralmente, ma una volta ogni tanto accetta di aiutarmi». Persi e Jason montarono sui rispettivi cavalli. Piper non si era mai sentita a suo agio con tempesta. Cavalcare una bestia che poteva evaporare in qualunque istante la innervosiva, ma accettò lo stesso la mano che Jason le porgeva e salì in groppa. Tempesta partì al galoppo lungo la strada, con Blackjack che lo seguiva dall'alto. Per fortuna non incontrarono auto. Non sarebbe stato un disastro. Nel giro di pochi attimi giunsero al cartello che segnalava i 50 chilometri. Era identico a quello che Piper aveva visto nella visione. Blackjack atterrò. Entrambi i cavalli pestarono gli zoccoli sull'asfalto. Nessuno dei due era contento di essersi fermato così presto, proprio quando avevano trovato il passo. Blackjack nitri. Hai ragione, replicò Percy. Il tizio del vino non si vede. Come prego, disse una voce dai campi. Tempesta si voltò così in fretta che Piper rischiò di cadere. Il frumento si divise e l'uomo della visione comparve. Indossava un cappello a tesa larga ornato di tralci di vite, una maglietta viola a maniche corte, pantaloncini color cachi e un paio di sandali con i calzini bianchi. Somigliava a uno studente universitario troppo cresciuto, con la pancetta e sulla trentina. «Sbaglio o qualcuno mi ha appena chiamato tizio del vino?» chiese strascicando le parole. «Preferisco Bacco, per favore. O divino Bacco. O anche a volte...» «Cossa antinumila, prego, non mi uccida! Divino Bacco!» Persi incitò Blackjack ad avanzare, sebbene il Pegaso non sembrasse molto felice di accontentarlo. «Sembri diverso», disse rivolto al dio. «Sei più magro, hai capelli più lunghi e non indossi una camicia pacchiana!» Il dio del vino lo squadrò, socchiudendo gli occhi. «Di che diamine stai parlando? Voi chi siete? Dov'è Cerere?» «Cece che?» «Cerere, la dea dell'agricoltura», chiarì Jason. «Voi la chiamate Demetra». Salutò il dio con un cenno rispettoso del mento. «Divino Bacco, si ricorda di me? Le ho dato una mano con quel leopardo scomparso a Sonoma». Bacco si grattò il mento ispido. «Vi ha mandati Cerere allora?» «No, divino Bacco», rispose Jason. «Doveva incontrarlo qui?» Il dio fece un verso di scherno. «Beh, non sono venuto in Kansas a divertirmi, figliolo. Cerere mi ha invitato a un consiglio di guerra. Con questa storia del risveglio di Gea, le colture stanno appassendo, si sta diffondendo la siccità. I carpoi sono in rivolta. Nemmeno le mie viti sono al sicuro. Cerere vuole creare un fronte unico nella guerra vegetale». «La guerra vegetale?» ripete Persi. «E che farete? Armerete i chicchi d'uva con mini fucili d'assalto?» Bacco s'ho chiuse gli occhi. «Ci siamo mai incontrati?» «Al campo mezzo sangue», rispose Persi. «Io ti conosco col nome di Signor D... Dioniso». «Bah!» Bacco trasalì e si premette le mani sulle tempie. Per un attimo la sua immagine sembrò mutare. Piper vide una persona diversa, più grassa, più tozza, con una vistosa camicia leopardata. Poi il dio tornò a essere Bacco. «Basta!» ordinò. «Smettila di pensare a me in greco!» Persi strizzò gli occhi. «Ma hai idea di quanto sia dura restare concentrati? Un dolore costante e lancinante alla testa! Non so mai quello che sto facendo né dove sto andando! Mi lamento in continuazione!» «Beh, niente di diverso dal solito, allora», commentò Persi. Bacco dilatò le narici. Una delle foglie di vite sul suo cappello scoppiò in fiamme. «Se ci conosciamo davvero in quell'altro campo, mi stupisco di non averti già trasformato in un delfino!» «In effetti lo avevi preso in considerazione», lo rassicurò Persi. «Ma eri troppo pigro per farlo!» Piper aveva osservato la scena tra l'inorridito e l'affascinato. Era come assistere a un incidente d'auto in diretta. Si rese conto che Persi non stava per niente migliorando la situazione e Annabeth non era lì per frenarlo. Intuì che l'amica non l'avrebbe mai perdonata se le avesse riportato il suo ragazzo in versione mammifero marino. «Divino Bacco», intervenne scivolando giù dalla groppa di tempesta. «Fai per attenzione», la mise in guardia Jason. «Lei ricambiò con un'occhiata di ammonimento. Ci penso io». «Ci dispiace importunarla, mio signore, ma a dire il vero siamo venuti qui per chiedere il suo consiglio. La prego, abbiamo bisogno della sua saggezza». Usò il suo tono più condiscendente, riversando molto rispetto nella lingua maliatrice. Bacco si accigliò, ma il bagliore violaceo nei suoi occhi si spense. «Hai il dono della parola, ragazza. Un consiglio, eh? E va bene. Eviterei il karaoke. E ricordate che le feste a tema ormai non vanno più. In questi tempi di austerità, la gente vuole eventi semplici, informali, con spuntini bio a chilometri zero e non si tratta di una festa», lo interruppe Piper. «Anche se mi sembrano tutti consigli utilissimi, divino Bacco. Noi speravamo che ci aiutasse con la nostra missione». Spiegò la storia dell'Argo 2 e del loro viaggio per impedire ai giganti di svegliare Gea. Gli riferì quello che Nemesi aveva detto. Di lì a sei giorni, Roma sarebbe stata distrutta. Descrisse la visione riflessa nel pugnale, in cui Bacco le offriva un calice d'argento. «Un calice d'argento?» Il dio non sembrava molto entusiasta. Acchiappò una lattina di Diet Pepsi dal nulla e tirò la linguetta. «Ma non bevevi Diet Coke?» osservò Percy. «Non so di cosa parli», lo fulminò il dio. «Quanto alla visione del calice, signorinella, non ho da offrirti niente da bere, a meno che tu non voglia una Pepsi. Giove mi ha severamente vietato di offrire alcolici ai minori. Una seccatura? Ma che ci vuoi fare?» «Quanto ai giganti, li conosco bene. Ho combattuto nella prima guerra dei giganti». «Sai combattere?» domandò Percy. Piper avrebbe tanto voluto che non lo avesse detto in tono così incredulo. Il dio ringhiò. La lattina si trasformò in un bastone lungo quasi due metri, intrecciato di edera e sormontato da una pigna. «Un tirso!» esclamò Piper, sperando di distrarre il dio, prima che sbattesse il bastone in testa Percy. Aveva già visto armi del genere in mano a ninfe psicopatiche e non le faceva molto effetto vederne di nuovo una, ma cercò di sembrare molto colpita. «Oh, che arma potente!» «Esatto», concordò Bacco. «Vieto di vedere che almeno qualcuno del vostro gruppetto ha un po' di cervello. La pigna è una temibilissima arma di distruzione. Era un semidio anch'io nella prima guerra dei giganti, sapete. Il figlio di Giove!» Jason trasalì. Forse non era molto felice di sentirsi ricordare che, tecnicamente, quel tizio era suo fratello maggiore. Bacco mosse con violenza il tirso nell'aria, rischiando di sbilanciarsi per via della pancetta. «Certo, accadde tutto molto tempo prima che inventassi il vino e divenissi immortale. Combattei fianco a fianco con gli dèi e con un altro semidio. Come si chiamava? Enrico?» «Ercole?» suggerì educatamente Piper. «Beh, è uguale», replicò Bacco. «Comunque uccisi il gigante Fialte e suo fratello Otto. Che orribili zoticoni quei due! Una bella pigna in faccia per entrambi!» Piper trattenne il fiato. A un tratto molte idee le si affollarono nella testa. Le visioni del pugnale, i versi della profezia di cui avevano parlato la sera prima. Si sentì come quando faceva immersioni subacquee con il padre e lui le puliva la maschera sott'acqua. All'improvviso tutto era più chiaro. «Divino Bacco», disse cercando di non sembrare troppo nervosa. «Quei due giganti e Fialte e Otto, per caso, erano gemelli?» «Come dici?» Il dio sembrava distratto dal movimento del tirso, ma annui. «Sì, gemelli, esatto». Piper si voltò verso Jason. Capì che stava seguendo i suoi ragionamenti. Il respiro dell'angelo che ha la chiave dell'eterna morte, i gemelli soffocheranno, se lo vorrà la sorte. Sulla lama di Catoptris aveva visto due giganti vestiti di giallo che issavano una giara da una fossa profonda. «È per questo che siamo qui», disse allora al dio. «Lei fa parte della nostra impresa eroica?» Bacco si accigliò. «Spiacente, figliola. Non sono più un semidio. Le imprese eroiche non mi riguardano più». «Ma i giganti si possono uccidere solo se gli eroi e gli dèi operano insieme», insistette Piper. «Lei adesso è un dio e i due giganti contro cui dobbiamo combattere sono i Fialte e Otto. Credo che ci stiano aspettando a Roma. Hanno intenzione di distruggere la città in qualche modo. Il calice d'argento che ho visto nella mia visione forse è un simbolo del suo aiuto. Lei deve aiutarci a uccidere i giganti». Bacco la fulminò con un'occhiataccia e Piper si rese conto di aver scelto malissimo le parole. «Mia cara ragazza, io non devo fare un bel nulla», replicò il dio gelido. «E poi aiuto solo coloro che mi offrono un tributo adeguato, cosa che nessuno riesce più a fare da molti, molti secoli». Blackjack nitri, nervoso. Piper non poteva dargli torto. Non le piaceva il suono della parola «tributo». Ripensò alle menadi, le folli seguaci di Bacco, che facevano a brandelli i miscredenti a mani nude. «Se erano di buon umore». Persi diede voce alla domanda che lei aveva troppa paura di formulare. «Che genere di tributo?» Bacco liquidò la faccenda con un gesto distratto della mano. «Niente di cui tu sia in grado di occuparti, insolente di un semidio greco. Ma vi darò un consiglio gratis, dal momento che la ragazza qui ha un po' di educazione. Scovate il figlio di Gea, Forco. Ha sempre odiato la madre. E non gli si può dare torto. Non voleva saperne nemmeno dei suoi fratelli, i gemelli. Lo troverete nella città che ha preso il nome da quell'eroina. Atalanta». Piper esitò. «Atalanta?» «Quella». «Ma questo Forco è un gigante?» domandò Jason. «Uno corise. Nell'uno, nell'altro. Cercate l'acqua salata». «L'acqua salata?» ripete Persi. «Ad Atlanta?» «Sì», confermò Bacco. «Sei duro d'orecchi? Se c'è qualcuno in grado di farvi capire meglio Gea e i gemelli, è Forco. Però state attenti». «In che senso?» domandò Jason. Bacco lanciò un'occhiata al sole, che era quasi giunto al mezzogiorno. «Non è da cerere e fare tardi. A meno che non abbia avvertito qualcosa di pericoloso nella zona. O il volto del dio si afflosciò all'improvviso. O a meno che non sia una trappola. Bene, devo andare. E se fossi in voi farei lo stesso». «Divino Bacco, aspetti!» protestò Jason. Il dio scintillò e scomparve, con un suono simile a una bottiglia stappata. Il vento arruffò i girasoli. I cavalli pestarono irrequieti gli zoccoli. Nonostante il caldo torrito e secco, Piper rabbrividì. «Una sensazione di gelo!» Anna Vettelèo avevano entrambi descritto una sensazione di gelo. «Bacco ha ragione. Dobbiamo andarcene!» «Troppo tardi», replicò una voce assonnata, ronzando sui campi intorno e risuonando nel terreno. Persi e Jason estrassero le spade. Piper rimase immobile in mezzo a loro, paralizzata dalla paura. Il potere di Gea all'improvviso permeava tutto. I girasoli si voltarono a guardare i semidei. Il frumento si piegò verso di loro come un milione di falci. «Benvenuti alla mia festa», mormorò Gea. La sua voce ricordò a Piper il rumore sommesso delle coltivazioni di Gran Turco, crepitante, sibilante, caldo e insistente, come quello che sentiva sempre da nonno Tom durante le notti serene in Oklahoma. «Cosa vi ha consigliato, Bacco?» continuò la dea in tono di scherno. «Una situazione semplice, informale, con spuntini bio?» «Sì, di spuntini me ne bastano due. Il sangue di una semidea e il sangue di un semidio!» «Piper, mia cara, scegli quale eroe morirà con te!» «Gea, smettila di nasconderti nel frumento!» urlò Jason. «Fatti vedere!» «Quanta maldanza!» sibilò Gea. «Ma anche l'altro, Percy Jackson, ha un certo fascino. Scegli, Piper McLean, o lo farò io!» Il cuore di Piper batteva mille. Gea aveva intenzione di ucciderla e quella non era una sorpresa. Ma cosa c'entrava questa storia di scegliere tra uno dei due ragazzi? Perché era disposta a lasciare andare uno qualunque dei due? Doveva essere una trappola. «Tu sei pazza!» gridò. «Io non sceglierò un bel niente per te!» All'improvviso, Jason sussultò. Drizzò la schiena, seduto sulla sella. «Jason!» gridò Piper. «Che succede?» Lui abbassò lo sguardo su di lei, il volto di una calma mortale. I suoi occhi non erano più azzurri. Brillavano d'oro massiccio. «Persi, aiuto!» Barcollando, Piper arretrò da tempesta. Ma Percy si allontanò al galoppo, si fermò una quindicina di metri lungo la strada e fece voltare il Pegaso. Levò la spada e la puntò verso Jason. «Uno solo morirà!» esclamò. Ma la voce non era la sua. Era sorda e profonda. «Sarò io a scegliere!» replicò Jason, nella stessa voce sorda. «No!» gridò Piper. Tutti intorno a lei, i campi crepitarono e sibilarono, ridendo con la voce di Gea, mentre Percy e Jason si lanciavano all'attacco con le armi puntate, l'uno contro l'altro.